Quindi intanto state rilassati, lo facciamo fare a lui, adesso vi chiedo una variante, marciare incrociando sulla linea, ok stessa cosa però dovete fare questo, vedete, va bene e avanzare fino a giù, forza, prendetevi tutte e stai le linee andate, guardate un attimino lui, guarda avanti, vedete l'alto è disteso, guardate com'è disteso l'alto, guarda avanti non guardare per terra, forza, prendete tutte le linee e si arriva fino a giù, dai, vedi che stai iniziando a imparare